Come si può risolvere la crisi europea? I dati di incomprensione vertano esattamente sul concetto di Europa. Il fine della prossima settimana è una data cruciale. L'Italia ha poco tempo per fare le sue scelte. L'Europa forse ha meno tempo che l'Italia per decidersi a tornare ad essere l'Europa, a dotarsi degli strumenti politici per poter governare questa fase, per dotare la banca centrale dei poteri di una vera banca, la banca europea dei poteri di una vera banca centrale, e per far sì che le istituzioni europee possano guidare questo processo. Quindi da questa incomprensione può anche nascere una possibilità, diciamo, di aiutare la Germania a prendere la decisione che deve prendere, che è appunto quella di non approfittare di questa crisi per fare una grande Germania, ma di approfittare di questa crisi per fare una grande Europa, dove anche la Germania può ritrovare la sua vera dimensione. Grazie a tutti.